Se è vero che pizza e panni si mangiano con le mani, è toccava la pizza. Mettiamo questo goccetto di acqua tiepida insieme al lievito e lo facciamo stemperare suadentemente. Si è ben squaglicchiata e lo mettiamo qui. Adesso mettiamo un altro po' d'acqua. E se non vi volete sporcare le mani, perché non è necessario, cominciate così. Allora la quantità d'acqua, quanto ce ne metti? Quella che serve. Perché dipende da tante cose, dalla farina, dall'umidità dell'aria, da tantissime cose. Non la mettete tutte insieme, dategli sempre il tempo di fare il suo lavoro all'acqua. Due granelli di sale, goccetto, goccetto, si fa l'impastetto. Questo non è un detto, ma ci stava bene. Ecco, adesso lo cominciamo a lavorare con le mani, perché vediamo che non è più tanto appiccicoso. Puliamo. Allora, se siamo stati bravi non ci serve più farina, se non siamo stati bravi ce la aggiungiamo un po'. Adesso vediamo quello che si raccatta da sotto. Ci siamo. La possiamo togliere da sotto. La maniggiamo un altro pochino. Adesso lei praticamente avrà bisogno del suo tempo per lievitare. Gli diamo una sbattotina e la rimettiamo dentro la coppetta. Lo mettiamo vicino alla fonte di calore e gli diamo il tempo necessario per una buona lievitazione. Due giorni, 18 giorni, un'ora, fate voi. Logicamente è lievitato. In tempi unusualmente brevi. Noi adesso la allargheremo. Poi la pizza, a seconda di come vi piace, più doppia, più fina, fate come vi pare. Però l'importante è che abbia un minimo di senso. Vi piace tipo focaccia un po' più spessa? Fatela più spessa. Vi piace più fina? Fatela più fina. L'impasto è venuto molto bene perché è molto molto elastico. Quindi rifiuta di essere estesa. Il che ci fa piacere. Ecco qui. Due granellini, due di sale grosso. Un goccino di olio. Ci sfracagniamo qualche pezzetto di pelato. Così, proprio sfracagnato. Io amo molto il pelato un po' rotto piuttosto che la polpa macinata. Ma sono scelte private anche quelle. Fate come vi pare. A me l'idea di trovarmi un filettino, un pezzettino di pomodoro mi intriga. Magari a altri non gli piace. E quindi lo fa come gli pare. Mozzarella. Mozzarella. Scamorza. Mezza affumicata e mezza no. Un nulla di pecorino. Non esagerate perché dà tanto sapore. E poi... Diciamo tre fette di guanciale. Così la mozzarella si cuocerà bene senza essere troppo sbrocciacchiata. Forno ben caldo. Dieci minuti in quarta d'ora dipende dal vostro forno. Quindi io vado a rinfornare. Allora, se pizza e panni si mangiano con le mani, tagliamone in pezzetto e mangiamocene un pochetto. Allora... Io sono muzio ma... Buona? 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 Ci stanca bene che ne arriva la scamborzina. La mozzarella. Il guanciale. La pizza è sempre un classico. Alla fine non è questo impegno così gravoso. Anche farsi l'impasto. Ci vuole solo il tempo. Ma intanto facciamoci una pizza e mangiamocela con le mani. Perché pizza e panni si mangia con le mani. Buona pizza a tutti.